Buongiorno Daedo, vi avevo detto che questa settimana non avreste sentito neanche un buongiornissimo e invece ve l'ho fatta. Eccomi qua con un buongiorno che non doveva esserci, in realtà è vero, io non volevo farli questa settimana, ma sono uscite una coppia di news che era impossibile non beccare e farci una puntata, perché si ricollegano a robe che abbiamo già trattato nel corso della storia di questo podcast, soprattutto recentemente, adesso c'è una roba di security che è direttamente collegata al caso Snowflake, che se non vi ricordate dovete andare a ribeccarvi, perché appunto è un caso emblematico e quello di cui vi parlo oggi è proprio diretta conseguenza di quella roba lì, quindi se siete su YouTube metterò il link qua, qui, qua, ecco, alla prima puntata in cui ho parlato del caso di Snowflake, del breach a Snowflake, che cos'è, di che cosa tratta, come hanno fatto a fare quel breach e le sue conseguenze. E adesso è arrivato un altro mega breach proprio collegato con quello e non potevano vederlo, e poi la seconda cosa parla di Elon Musk e dell'Unione Europea, e come faccio, come faccio a non trattare questa roba? Musk, l'Unione Europea, Twitter, meraviglioso, quindi, guarda, non metto neanche, non c'è intro qua, l'intro è guardatevi questo podcast, ah no, vi segnalo una cosa, siccome ho fatto venerdì scorso qua sul canale YouTube, ho pubblicato un video dove parlo, spiego la gestione della memoria, e quindi per capire che cos'è memory safe, memory unsafe, eccetera, come avevo promesso, perché mantengo le promesse. L'ho caricato, lo trovate, sono 40 minuti, 45 minuti, insomma, di videino con i disegnini, spiegato in modo semplice, quindi, insomma, ecco, mi farebbe piacere se ci deste un'occhiata, mi fate sapere come lo trovate e magari lo condividete con chi pensate possa essere interessato a quel genere di argomenti. Basta, e ora vi do quelle news di cui vi parlavo oggi. Esatto, partiamo con questo breach che riguarda AT&T, che, naturalmente sapete, è una compagnia telefonica americana, quindi magari a noi utenti europei non ce ne frega una mazza, ma a parte che c'è magari qualcuno che vive nei Stati Uniti o ha conoscenze negli Stati Uniti, ma, insomma, è un breach molto grosso che impatta milioni di persone e poi è collegato, appunto, come dicevo, con Snowflake. Ve lo leggo, intanto parto da The Verge, che ci dà un overview. Quindi AT&T ci ha detto venerdì mattina, sto proprio parlando di venerdì scorso, che un attacco di cyber security ha esfiltrato e quindi ha esposto dei record, quindi dei log, di chiamate e di messaggi di praticamente tutti i clienti dell'operatore telefonico. Questo breach contiene dati da il 1 maggio 2022 al 31 ottobre 2022, oltre a un po' di dati da un piccolo numero di clienti del 2 gennaio 2023, per qualche motivo. Il portavoce di AT&T, Alex Beers, ha confermato a The Verge che l'attaccante ha ceduto le informazioni proprio attraverso una piattaforma di tre parti, che è Snowflake, esattamente come abbiamo visto con altri breach, come quelli a Ticketmaster e alla banca Santander. AT&T si è accorta di questo breach in aprile, ma poi parlando con l'FBI, che è stata subito avvertita, quindi hanno subito fatto disclosure di questo breach, ma l'FBI ha preferito ritardare l'annuncio al pubblico di questo breach per questioni di sicurezza nazionale, sicurezza pubblica, insomma hanno pensato che fosse meglio così. Allora, cosa include questo malloppone di dati rubati? include un log con i numeri di telefono, proprio con le chiamate, quali numeri di telefono sono stati chiamati da clienti di AT&T. E Beers dice anche a The Verge che ci sono anche i numeri di queste chiamate e dei messaggi e la durata di queste chiamate per giorni o mesi specifici. Le informazioni che invece non sono incluse in questo breach sono il contenuto delle call e dei messaggi e neanche i timestamp, non ci sono neanche i timestamp delle chiamate e non ci sono dettagli come i social security number, il giorno di nascita o altre informazioni che possano ricondurre una persona, però naturalmente con il numero di telefono ci si può risalire. Poi in un blog post AT&T ha detto che non pensano che i dati siano pubblicamente disponibili e che hanno preso i loro accorgimenti per limitare tutti gli accessi illegali. Ora, l'azienda sta lavorando con le forze dell'ordine per arrestare tutte le persone coinvolte e dice che una persona è già stata arrestata. Qui ci servirebbe la clip del medico Maurizio Mosca quando diceva vedete quel criminale che ha chiamato prima? È già stato arrestato. Ecco, più o meno il tenore delle comunicazioni di AT&T è questo qua. Anzitutto una notizia, quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave di miei confronti è stato già arrestato. Poi dicono naturalmente che si pentono e si dolgono dell'incidente, insomma fanno ammenda con i propri clienti. Insomma imparo qualche altra informazione su Bleeping Computer che parla di 109 milioni di clienti, come il numero di persone coinvolte in questo breach, conferma che la cosa è dovuta all'account, alla compromissione dell'account su Snowflake e che questa compromissione su Snowflake è avvenuta tra il 14 e il 25 aprile del 2024. C'è anche un elenco dei dati che sono stati effettivamente rubati, un po' ve li ho già detti, comunque sono numeri di telefono chiamati da AT&T su lina fissa e su mobile, c'è il numero di interazioni, quindi il numero di chiamate, il numero di messaggi e anche un dato aggregato sulla durata delle chiamate per un giorno, per un mese, non lo so. E c'è anche, dice, per un subset di questi record, quindi per un sottoinsieme di questi dati, ci sono delle identificazioni di celle telefoniche, quindi per alcuni apparentemente ci sono dati sulle celle telefoniche. Comunque non ci sono altri dati sensibili come carte di credito o nomi o social security number, ecco queste robe qua. AT&T ha creato una FAQ dove uno può andare a vedere quali sono le conseguenze di questo breach, può anche controllare se il proprio numero di telefono è stato esposto ed eventualmente puoi chiedere di scaricare i dati relativi al suo numero di telefono. E va bene. C'è poi, sempre su Blippin Computer, un piccolo riassunto del dramma di Snowflake, dove, insomma, adesso vi faccio anch'io un piccolo reminder che Snowflake è quella piattaforma di data warehouse, quindi dove ci sono molti dati, è un data warehouse as a service, no? Quindi un cloud-based storage, dove molte aziende vanno a mettere i propri dati, c'è stato questo breach confermato da Mandiant, che è un'azienda di cyber security, questo attore maligno, malevolo, threat actor, come lo si traduce? Questo attaccante, che è stato identificato come UNC5537, che ha fatto questi attacchi ai clienti di Snowflake utilizzando le cadenziali, appunto, rubate attraverso un malware di infostealer. Poi Snowflake, ci dice anche Blippin Computer, ha introdotto delle politiche per rafforzare la propria posture, la propria postura in cyber security, introducendo, per esempio, la multifactor authentication come obbligatoria. Questa è una cosa che possono attivare gli utenti, per rendere il proprio account un pochino più sicuro, perché ricordo che la mancanza di multifactor authentication era proprio tra le cause che poi hanno portato alla compromissione facile degli account su Snowflake. Leggo da un altro blog di security, che è Crabson Security, a parte la dichiarazione dell'FBI che, appunto, conferma che loro avevano saputo subito dei TNT di questo breach, ma poi hanno chiesto di ritardare, appunto, la disclosure al pubblico per questioni di sicurezza. Ma, insomma, poi ci sono le dichiarazioni di un esperto, un architect di security che si chiama Mark Burnett, dichiarazioni che ha lasciato su Mastodon, che dice che l'unico vero uso per questi dati rubati, cioè per questi log di numeri di telefono che si chiamano, cioè quali numeri chiamati, il contatore delle chiamate, insomma. Insomma, l'unico valore che c'è qua è, per AT&T, sapere chi ha chiamato chi e per quante volte. La cosa più preoccupante, dice, di questa vicenda, è che questo non è il database principale di AT&T, ma è un altro database dove ci sono tutti i clienti di AT&T con dei log, appunto, di chi sta chiamando chi. E questo, dice il ricercatore, mi fa chiedere per cosa AT&T utilizzasse questo altro database, questo log di chiamate. E il discorso, poi, è un pochino più ampio sulla cyber security in generale, cioè su quante compagnie prendono questa roba un po' alla leggera e mettano dati potenzialmente molto sensibili in database poco protetti, giusto per avere dei metadati. Metadati sui propri clienti. Per esempio, un'altra compagnia che è stata sempre coinvolta nel bridge su Snowflake, che è Advanced Auto Parts, sempre compagnia americana, ha praticamente esposto un database con dentro nomi completi, social security number, patenti di guida, insomma, di 2,3 milioni di persone, di ex dipendenti, oppure di chi aveva fatto application per un lavoro a Advanced Auto Parts. Insomma, proprio la leggerezza con cui queste aziende buttano dati in un database, poi mettono un database online in platform con account poco protetti. E attenzione, perché qua poi la frizzantezza aumenta, perché AT&T, si scopre, ha poi pagato un hacker circa 370 mila dollari per cancellare questo malloppone di dati degli utenti che appunto erano stati rubati. L'hacker ha dovuto registrare un video mentre cancella questi dati per dargli una prova che la cosa fosse effettivamente successa, che io non riesco a immaginare come qualcuno possa davvero credere. Ah beh, certo, ho visto il video del tizio che cancella i dati, sarà sicuramente vero, per forza ha cancellato tutti i miei dati, ora sono in una botte di ferro. Ma vabbè, io ti giuro che è roba che è successa davvero. AT&T ha detto che ha negoziato questo accordo attraverso un intermediario chiamato Reddington, che ha agito per conto del gruppo di hacker Shiny Hunters, che loro chiedevano originalmente un milione di dollari, poi dopo hanno trovato questo accordo per 370 mila dollari che AT&T ha pagato il 17 marzo in Bitcoin, naturalmente. E poi Wired dice che Reddington, che è stato anche pagato da AT&T per questa negoziazione, dice che crede che l'unica copia dei dati è stata cancellata dopo che AT&T ha pagato questo riscatto. Però dice anche che è possibile che alcuni estratti siano ancora disponibili da FOI. Certo, è possibile, guarda, ti assicuro che hanno cancellato tutto, però poi se qualcosa è fuoriuscito, come faccio io a saperlo? Certo, siamo, ripeto, botte di ferro. Allora, vedete, il livello di effervescenza è enorme e volevo proprio aggiornarvi, perché io cosa avevo detto? Che su Snowflake avremmo avuto notizie per mesi, perché naturalmente, quando booki una piattaforma così, che ha così tanti clienti, e ha questo livello di security così basso, e beh, arriveranno, spunteranno nomi, e probabilmente ne spunteranno ancora. La lista dei clienti colpiti dal bridge di Snowflake non è finita. Adesso AT&T è particolarmente grosso, ma ne usciranno gli altri, magari più piccolini, faranno meno notizia, però sono comunque parte di questa roba ed è comunque grave. Comunque, per chiudere, per darvi, insomma, una chiosa anche a questa notizia, vi ho già anticipato prima che Snowflake ha dato la possibilità agli amministratori degli account di rendere il multifactor authentication obbligatorio per gli account, quindi per i login inclusi nel loro piano. Quindi questa roba aumenta un pochino la security di Snowflake, tra l'altro implicitamente ammettendo che invece prima il livello era troppo basso. Con questo hanno annunciato anche la disponibilità di una nuova piattaforma che si chiama Snowflake Trust Center che include due pacchetti, la Security Essential Scanner e il CIS Benchmark Scanner. Insomma, sono sempre degli scanner che cercano di far capire se l'account è compromesso o no, insomma, anche qui aumentano un pochino il livello di security dell'intera piattaforma. Insomma, questa era per dar conto di un'altra grande compromissione legata proprio al bridge di Snowflake che ci darà soddisfazioni ancora per i prossimi mesi. Come continua a darci grosse soddisfazioni il signor Elon Musk? Ma qua c'è anche un'altra figura che ci ha sempre dato soddisfazioni che è il commissario europeo Thierry Breton. Ma vi dico cos'è di cosa si sta parlando? Beh, la Commissione Europea ha dato un parere preliminare sulla violazione del DSA, il Digital Services Act, da parte di Twitter, naturalmente, ora rinominata X dal nostro. Per quanto riguarda in questo caso gli account verificati, quindi le spunte blu. Il parere è la conseguenza di un procedimento formale avviato dalla Commissione a dicembre 2023 proprio nei confronti di X con il quale insomma si intende valutare se il social network di Elon Musk ha violato il DSA. Ora, nello specifico la spunta blu secondo la Commissione che è usata appunto per gli account verificati di X non corrisponde alla prassi del settore e inganna gli utenti. Attenzione. Chiunque può iscriversi per ottenere lo status di verificato dice la Commissione e ciò influisce negativamente sulla capacità degli utenti di prendere decisioni libere e informate sull'autenticità degli account e dei contenuti con cui interagiscono. Sto leggendo da D-Day. In pratica la Commissione sta dicendo che se prima dell'acquisto di Twitter da parte di Musk gli utenti verificati subivano effettivamente un processo di screening che qua peraltro mi permetto sarebbe da valutare se è vera e quanto è vera questa cosa del processo di screening comunque c'era apparentemente uno screening da parte del social per controllare che il profilo corrispondesse a una persona reale mentre oggi la spunta blu è un badge che viene dato a chi si abbona a pagamento al servizio Twitter Premium ma si porta dietro almeno indirettamente il vecchio significato di utente verificato. La Commissione evidenzia anche che è provato che soggetti malintenzionati abusano dell'account verificato per ingannare gli utenti. Io direi che sull'ingannare gli utenti abbiamo avuto un esempio freschissimo proprio ieri quando mezza Twitter italiana è impazzita per la notizia fake di Mark Violets coinvolto nel tentato omicidio di Donald Trump Mark Violets giornalista italiano Marco Viola trollato sulla parte calcistica di Twitter da account con spunta blu che naturalmente non sono account verificati questa roba ha fatto il giro del mondo insomma sul fatto che gli utenti si fidino di più di chi era spunta blu penso che non ci siano molti dubbi sul fatto che un'azienda privata possa essere multata perché sta sfruttando questa convenzione che si è fatta negli anni non lo so questo è un pochino più strano bisognerebbe un po' discutere io non ho i mezzi magari per discutere di questo però è effettivamente interessante comunque sappiate che Xergis che è un'ammenda fino al 6% del suo fatturato globale annuo e qui c'è il nostro eroe Thierry Breton commissario europeo che anche lui ha la sua bella spunta tra l'altro non capisco com'è possibile che questo tizio possa comunicare in questo modo ma nessuno gli fa notare che non è appropriato che è un commissario europeo si esprime in questo modo vabbè tanto su Twitter che parla appunto di questa roba del blue check con questa sintassi così e si mette lui la foto mentre parla è sbagliato è tutto sbagliato questa roba qua vabbè comunque lui annuncia su Twitter che ora Musk rischia queste cose che loro stanno verificando la blue check e Musk naturalmente visto che questo è il tono delle comunicazioni Musk ci si infila naturalmente come una mosca nella nutella non so che pergamo ho fatto comunque la prima risposta di Musk al Twitter del commissione europeo è come facciamo a sapere che sei reale che naturalmente è ovvio che il livello se il livello è questo allora arriviamoci sopra comunque tornando a serie The Verge ci informa che questa è la prima volta che un'azienda viene accusata formalmente di infrangere il DSA questo così ve lo butto lì come curiosità ma non è finita questa vicenda perché poi il signor Musk ha anche risposto alle accuse della commissione europea naturalmente sempre su Twitter dicendo che la commissione gli avrebbe offerto un accordo segreto illegale per censurare contenuti sulla piattaforma in cambio di un'esenzione dalle sanzioni relative alle possibili violazioni nel DSA e dice anche che altre piattaforme invece avrebbero accettato questo deal qua è il suo tweet tanto mi fa impazzire che lui usi per riferirsi a X usi il carattere unicode di X provando che il logo di X è semplicemente un carattere vabbè lasciamo stare poi secondo una fonte anonima sentita da Pirate Wires la commissione avrebbe anche proposto a X di assumere un team nell'Unione Europea per rimuovere unilateralmente la disinformazione dalla piattaforma senza possibilità di appello non è confermata questa roba naturalmente me la butto lì come diceria in risposta alle accuse sulla violazione del DSA Musk ha annunciato l'intenzione di intraprendere azioni legali se la commissione europea dovesse confermare le sue conclusioni preliminari e procedere con misure punitive contro X quindi Musk si prepara alla battaglia in tribunale contro l'Unione Europea e noi naturalmente saremo qui a guardare dalla sponda del fiume peraltro vi do un dato diffuso dal Financial Times sulla crescita incredibile di Twitter nelle mani del nostro Elon Musk sappiate che Twitter è cresciuta dell'1.6% se pensate che crescere sia comunque meglio che decrescere sappiate che Twitter negli anni precedenti all'acquisizione del nostro cresceva di circa il 15% ogni anno quindi dal 2019 al 2022 cresceva del 15% ogni anno nel 2020 era cresciuta del 35% per la roba del Covid il signor Musk l'ha fatta crescere del 1.6% non male vi lascio due link molto veloci ma vi consiglio di leggervelo il primo è su 404 Media e si intitola The Ticketmaster Hack is becoming a logistical nightmare for fans and brokers quindi parla proprio sempre di una vittima del bridge a snowflake che è Ticketmaster ne avevamo parlato e qui parla proprio di si dice in inglese l'aftermath no? cioè di cosa sta succedendo dopo questo bridge che conseguenze sta avendo su Ticketmaster e sui suoi clienti insomma vi consiglio di leggerlo è una lettura non impegnativa però vi dà un po' un quadro della situazione secondo me è ben fatto interessante e un altro link invece che ti do è di un blog che si chiama Chaos Computer Club ccc ccc.de si intitola questo blog si intitola Second Factor SMS Worse Than Its Reputation e come dice il titolo parla proprio della autenticazione a due fattori basati su SMS cioè su un codice che si riceve via SMS e di quanto questa roba non sia sicura quindi anche qua un articolo abbastanza breve però vi dà un quadro secondo me che bisogna avere quindi vi consiglio anche questa lettura come sempre vi lascio questi link nella descrizione e ho finito qui grazie per aver seguito anche questo buongiorno inaspettato in questa settimana però vi ricordo sempre di andare a vedere il mio video sulla gestione della memoria lo trovate sul mio canale YouTube andate perché insomma mi piace secondo me è un buon video potrebbe piacere anche a voi e soprattutto datemi feedback su questo tipo di video se vorreste vederne un po' di più se è chiaro se dovrei cambiare qualcosa insomma fatemi sapere perché avere dei feedback anche di cose negative mi serve perché così poi vado a cambiare quelle cose e comunque noi ci vediamo boh non so probabilmente settimana prossima a meno che questa settimana non lo so vediamo comunque grazie per seguimi davvero e alla prossima ciao